Giornata impegnativa? Abbastanza, sì, non c'è male. Comunque abbiamo, mi sembra, retto abbastanza bene l'urto. Si erano preparati a fronteggiare una vera e propria invasione, gli uffici postali e i CAF della Toscana nel giorno dell'esordio del reddito di cittadinanza, ma le previsioni sono state smentite. Stamattina, nelle primissime ore in Toscana, avevamo già quasi mille prenotazioni. Ci abbiamo avuto da stamani un bel afflusso, sinceramente pensavamo di più. Sportelli affollati, certo, ma non stracolmi come invece temevano gli addetti ai lavori alla vigilia. D'altronde, secondo l'IRPET, i beneficiari potenziali della misura governativa nella nostra regione sono 107.000, circa 45.000 famiglie interessate. Ma si tratta solo di un primo passo, quello di oggi, ossia quello di fare la domanda, la richiesta, condizione per la quale bisogna partire da un punto fermo, l'ISEE. Un'ISEE con valore inferiore alle 9.360 euro, che è la prima condizione, perché se non c'è quella, il resto delle condizioni è inutile vagliarle. Il patrimonio immobiliare non deve superare i 30.000 euro, con esclusione della casa d'abitazione. Tuttavia, siamo solo all'inizio, dicevamo, le stime dei tecnici parlano di numeri comunque importanti nelle prossime settimane, che daranno la cifra di un'emergenza sociale. Saranno fra le 40.000 e le 60.000, però è una previsione mia, ragionando un po' con la conoscenza dei dati fiscali che abbiamo a disposizione.